In attesa che la magistratura certi attraverso il processo quanto accaduto, Sinappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, difende la dignità di chi opera quotidianamente con onestà. Così Raffaele Tutto lo Mondo, segretario regionale del Sinappe, commenta la notizia del caso Tamponi nel carcere di Biella, che ha portato la procura ad avviare un'indagine che vede coinvolti 51 lavoratori del carcere, tra i quali anche una trentina di agenti. L'ipotesi è che utilizzassero, senza averne diritto, i test anti-Covid destinati ai detenuti. Come segretario regionale, sottolinea Raffaele Tutto lo Mondo, ritengo doveroso ricordare lo straordinario impegno profuso dagli agenti di polizia penitenziaria per proteggere la salute dei detenuti in piena pandemia. Il sovraffollamento delle strutture è purtroppo un fattore favorente alla diffusione del virus, senza dimenticare che gli agenti stessi sono a contatto con familiari e spesso con figli minori, altro grande veicolo di propagazione virale. Proprio per questo sono state adottate misure e precauzioni eccezionali, che hanno richiesto sacrifici anche personali, affrontati con dignità e spirito di servizio. Grazie a tutti.